Con l'istituzione della zona economica esclusiva, l'Italia tornerà a essere protagonista nel mar Mediterraneo, garantendo i diritti delle nostre marinerie per un utilizzo equilibrato delle risorse itiche, tutelando da un punto di vista ambientale un'ampia porzione di mare e non solo. Il voto di oggi è una risposta chiara alle inutili polemiche scatenate nei mesi scorsi sul mare della Sardegna e sulla presunta minaccia rappresentata dall'Algeria. La dimostrazione è che su questo fronte il nostro paese non ha subito alcuno scippo, né mai lo subirà. E' quanto sottolinea in una notte il deputato del Movimento 5 Stelle, Pino Cavras, vicepresidente della Commissione Esteri e relatore della legge che istituisce la zona economica esclusiva. Una norma attesa da ben 26 anni, presentata tra gli altri da tutti i parlamentari sardi del Movimento, che consentirà al nostro paese, prosegue il deputato Cavras, la possibilità di sfruttare economicamente e tutelare dal punto di vista ambientale un'ampia porzione di mare, soprattutto a ovest della Sardegna. La zona economica esclusiva, spiega la nota, è quell'area marina che si estende fino a 200 mila nauti che è oltre il limite esterno del mare territoriale di ciascuno Stato. Fissato in 12 mila dalla costa, nella sua zona economica esclusiva l'Italia potrà esercitare il diritto sovrano di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali, biologiche e minerali e la sua giurisdizione in tema di tutela ambientale e ricerca scientifica, ma anche riguardo alla realizzazione di impianti e strutture artificiali. Grazie al voto di oggi saranno protetti gli interessi dei pescatori italiani rispetto alle battute di pesca illegali di imbarcazioni che provengono da aree esterne al Mediterraneo e potrà decidere in maniera esclusiva come sfruttare le risorse minerarie con l'obiettivo di tutelare il paesaggio costiero e il turismo marittimo, spiega Cavras. E la Sardegna, conclude il deputato pentastellato, potrà acquisire una nuova centralità nel Mediterraneo da isola di confine e di confino ad avamposto di terra della zona economica esclusiva.